Nasce a Verbagna si prende cura, un gruppo civico che sostiene la candidatura a sindaco di Riccardo Brezza. La comunicazione arriva da Andrea Agnemi, già assessore nella giunta di Claudio Zanotti. Siamo un gruppo di cittadini e cittadini, elettrici ed elettori del centro-sinistra, che hanno a cuore il futuro di Verbagna. Si presentano e spiegano di voler dare un contributo nel confronto sul programma delle prossime elezioni. Tra i temi di cui si occupa il gruppo ci sono ambiente, acqua ed energia, trasporti, urbanistica e la tutela della sanità pubblica. In questa fase storica di crisi e cambiamento spiegano l'amministrazione comunale alla responsabilità fondamentale di promuovere conoscenza e coinvolgimento dei cittadini e di mettere le proprie forze al servizio della mitigazione e dell'adattamento degli effetti dei cambiamenti climatici. Attenzione anche al sociale, all'accoglienza, alla solidarietà, alla cooperazione internazionale. E concludono, pensiamo che la persona attualmente disponibile a candidarsi alla guida della città per il centro-sinistra, Riccardo Brezza, sia adatta e qualificata a recepire i contenuti da noi presentati, a valorizzarli in un documento di coalizione e a trasformarli in un progetto di amministrazione di Verbagna.